Il 2 luglio scorso l'amministratore straordinario della provincia di Sasseri, Pietro Fois, ha emesso due distinte delibere, la numero 66 e la 67, riguardanti i nuovi interventi per la messa in sicurezza e il miglioramento delle strutture e della viabilità sulle strade provinciali. La prima, la 66, dispone l'utilizzo di fondi della provincia per un ammontare di 6.800.000 euro da impiegare nel corso del 2020. Con la delibera 67, invece, sono stati programmati interventi tra il 2020 e il 2024 per un importo di 12.700.000 euro circa dai fondi resi disponibili dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il miglioramento della sicurezza stradale ma anche per la riduzione dell'inquinamento ambientale. I lavori ricadono nel comune di Sasseri e Sasserese, nella Nurra, Anglona, Monte Acuto, Meilogu, Gocceano e, per la delibera 67, anche Olbiatempio.